... Michela, facciamo il check-up della valigia, eh? Come va? La risonanza, dai. Il check, check della valigia, senza up, il check. Scusa, vabbè, hai portato il fucile, pin, occhiali, ce l'hai? Pin, fucile, occhiali ce li ho e ho capito che mi porti al mare. Alla macchina vuoi una via? Eh, ce l'ho. I spartiti? E tu pensavi di fregarmi? E c'ho pure quelli! E vediamo, il fioretto? Il fioretto, il fioretto l'ho fatta, ma non sono stata ascoltata. In che senso? Nel senso che ho chiesto quest'anno di stare uno bello, ai tanti, simpatico, dolce, carino, invece sto ancora con te in macchina. Vabbè, oh, che devo fare? Non ce la faccio più poi, sai? Non ce la faccio più con i tuoi proverbi. Basta, basta, che vuoi più sentire? Sì, invece sì, te sbatto per terra come un uopo. Ah, ho capito, mi porti nelle marche. Sì, nelle marche, però comunque uno che te lo dice come me, non lo troverai mai con nessuna marche al mondo. Ti dice cosa? Ti ci porto io! Quella è la famosa pietra bianca di Sì, fruttando le correnti favorevoli del mare era facile trasportare la pietra. Ah, beh, mica perché è venuta qua da sola. Com'è? Alchimista della salsiccia Marta! Marta, 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 Marta! Ho trovato questo libro, c'è scritto a portami alla biblioteca della Fondazione Rosalini, che cos'è? Ma scusa, mi sembri, come si chiama? Lacrima di Morro Galbo, perché il nome è questo? Ma che testone c'è? Non mi va bene niente. Valentina Vestali. Non mi va bene niente. Senigallia, Senigallia! Ti ricordi che film era? No, mi ricordo. Sembra i Vitelloni. I Vitelloni? Senigallia! Dai, davvero? Senti, che iada sta puntata, eh? Però, avevamo appuntamento, chi è questo qui? Che te. Ma no, dai. Appuntamento con Lara. Con Lara, sì. Lara, dove sta Lara? Ah, eccola va. Buongiorno, buongiorno, benvenuti. Ciao Lara. Ciao. Laura, cognome come sei? Massi. Ah, Massi. Massi. Tanto sei bella. Ci racconti un po' di questa fontana? Ti piace tanto a Gianfranco? Sì, si chiama Fontana dei Leoni. Le anatri sono state inserite in un secondo momento per celebrare la conclusione del dissecamento delle paludi che infestavano Senigallia e quindi creava, diciamo, una vita insana a tutti gli abitanti della città. Quindi la bonifica delle paludi. Quella invece è la rocca. La rocca roveresca, sì. Il libro di Senigallia perché negli anni ha avuto diversi impieghi, diverse destinazioni, da baluardo difensivo a scuola militare, a ospedale durante la seconda guerra mondiale e attualmente viene utilizzata per mostre e le più importanti iniziative culturali della città. E quella è la famosa pietra bianca distria. Sì, pietra bianca distria. L'abbiamo vista anche a Cesena. Ma la pietra bianca sono i capitelli. Sì, la pietra distria Senigallia si trova in vari punti della città. Sì, ma questi sono mattoni, mica sono bianchi. Ah no, certo, quelli là. Scusa, come funziona? La pietra bianca distria, come mai? Perché arrivava proprio qua naturalmente, vero? Sì, sfruttando le correnti favorevoli del mare era facile trasportare la pietra. Ah beh, mica perché veniva qua da sola. Questo è il foro annonario? Il foro annonario, sì. Questa è una delle piazze principali della città. Me fidate, me fidate. E il mattino ospita il mercato di frutta, verdure e fiore. E quando nasce questo foro formellittico? Con delle colonne d'oriche. Vuole lei? Certo. Scusa, reggilo il cagli. Prego signora. Buonissimo. Per te la. Grazie. Esprimi un desiderio. Perché è il primo, è vero. Ecco. Com'è? Buono, non ha lappa. Molto buono. Sì. 24 colonne? Sì. E chi la fate? Allora, è un architetto che si chiama... Pietro Ginelli. Sono un bel ragazzo. La popolarità. Grazie signora. Come dicevo, l'architetto Ginelli che progettò questa piazza. Oh, mi sa. Signora. Ma come stai, caro? E lei? Come ti rivedo volentieri. Sì, col guando. Come guando, signora. Devo fare la spesa, devo fare. Come sta? Chi è lei, la signora? Io sono Vilma Dupetti. Sono nata a Senigallia e sono nella piazza che noi chiamiamo, chiamavamo sempre, non il fuori del mare. Come la chiamava? La piazza dell'Erdo. Beh, perché c'è il mercato. Vilma, ma come ha cambiato sto mercato? Da morire. Ah, sì? La piazza è diventata stupenda ultimamente perché l'hanno rifatta tutta, però voi immaginate là, quei tavoloni, ci sono delle foto bellissime, tutti pieni del nostro pescato. Qua ci sono pochi i banchetti, no? Come mai? Ascolti, mi guardi, girati Visani. Guarda di là, lì c'era tutto seduto le triccole. Che sono le triccole? Le triccole, erano persone che portavano i loro prodotti dagli orti. Prodotto tipico di Sinigallia. Ah, scherzi? Ah, sì, sì. Dalla salsiccia matta che mangiavamo. Vai a fare la salsiccia. Io adesso vado a fare la salsiccia matta allora. Eh, lasciai la dose? No, dimmela. Eh, perché ci vuole la polpa di maiale. Sì. Quella di vitello. Sì. Perché ognuno ha il suo segreto. E allora come fai a dimmela? Ciao, firma. Ciao, caro. Ci vediamo presto. Senti. Ciao. Ciao, caro. Ci vediamo presto, eh. Ciao. Ricordatevi di staccità, eh. Eh, senti. Ricordatevi. Ma a me li dici gli aromi segreti della salsiccia matta? No, non te lo posso dire. Mi dispiace. Dillo, mentana. Io non dico niente. Niente. Eccoci, eccoci. Alchimista della salsiccia matta. Matta, 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 matta. Scusami, chi è più pazzo di te? Io o te? Io. Prima di tutto, il nome salsiccia matta dà la sua origine. Perché si chiama salsiccia matta? Allora, salsiccia matta perché questa è un... L'origine viene dal 1800 ed era una salsiccia nata al foro non aglio. Perché c'è una lunga lavorazione, ci vogliono 14-15 ore di lavorazione per preparare la salsiccia matta. Eh, ma dai, è una salsiccia. È una salsiccia particolare. Cioè... E fa diventare matto per il tanto lavoro chi la fa. Dimmi che cosa ci va dentro. Allora, ci va dentro magro di maiale, una parte, tre parti di magro di vitellone, di IGP, il lardello. Poi il tutto viene macinato. Poi abbiamo la saporita che è un mix di spezie. Come saporita dunque è un miscuglio che fanno solamente a Senigallia. A Senigallia. Eh, infatti, solamente a Senigallia possono farsi salsiccia. Allora... Poi sale e pepe, ecco qua. Sì, sì. Un po' d'aglio, vino e cogno. Questa salsiccia veniva fatta solo la settimana di Natale. Perché? Perché va messa nel brodo di Natale, esclusivamente nel brodo di Natale. Ecco. E veniva data in regalo ai clienti della macelleria. Ti devo dire una cosa, che è una salsiccia che conoscono solo gli abitanti del centro storico di Senigallia. Se tu vai a Fano o in Accona non sanno nemmeno cosa. Adesso l'abbiamo smenata. Una volta fatta questa lavorazione ha bisogno di riposo? Molto riposo. Molto riposo alla carne? No, 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 io molto riposo. Ah, va. Mi fa male i bracci. Portiamo nella insercatrice. Tu fai il lavoro sporco su, dai, dai, dai. Dai, dai, dai. Che budello usi? Di vitellone. Di vitellone? Di vitellone, sì. Non è un po' più duro? Sì, perché dopo questa salsiccia matta va stufata in una fornacella. Un forno a legna, praticamente molto grosso. Dunque è leggermente affumicata? Affumicata, bravo. Ah, ecco. Ecco, vedi, viene piccata. Ah, ecco. Eccola qui, la salsiccia matta. Questa è la salsiccia prodotto finito. Ah, scusa, a proposito, Giotto, mi dimenticavo una cosa. Che cosa? Arrivederci. Ci vediamo una prossima volta, eh. Ci vediamo. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Scusa, ciao. Ciao. Ho trovato questo libro, c'è scritto appartengo alla camera gialla, riportami alla biblioteca della Fondazione Rossellini, troverai qualcuno che si ha detto dov'è, voi sapete dov'è? Sì. Che cos'è? È uno dei luoghi più preziosi di Senigallia e si trova all'interno della Fondazione Rossellini che costituisce un vero e proprio tesoro perché raccoglie la gran massa di libri gialli che sono stati pubblicati in Italia, oltre a molte e molte altre novità. Andiamo a visitarla? Sì. Allora poi devo riportare il libro, è un dovere. Giusto. Di qua, di là? Di qua. Di qua, se ci porto io. Sempre aperta questa fondazione? Questa fondazione non è sempre aperta ma si può entrare con una prenotazione. Ah, e si possono consultare i libri? Sì, infatti vengono anche molti studiosi perché insomma il materiale raccolto qui è piuttosto consistente sia quantitativamente che qualitativamente. La camera gialla. Prego, entra, benvenuta. Wow. E la famosa camera gialla, proprio qui alle tue spalle, è contenuta tutta la collezione dei gialli pubblicati in Italia dall'inizio della pubblicazione, che è il 1929, fino ai giorni nostri. Avete anche il primo giallo del 29? Sì, eccolo qua. Fa vedere? Famoso. Fa vedere, fa vedere. La storia morte del signor Benson. E come è morto il Benson? Eh, non si sa, bisogna leggere il libro. La collana che inizia nel 1929 prosegue per tutto il tempo e finisce a un certo punto per incontrarsi proprio con la dittatura fascista che ovviamente non guarda di buon occhio questo genere perché parla di crimine, insomma, dà un'immagine della società che non è esattamente quella che il fascismo vorrebbe far conoscere. E nel 1944 abbiamo la fine del giallo, che però continuerà a vivere in modo più nascosto. Direi che a questo punto io vi devo ridare il libro che ho trovato sulla pancina. Lo prendo io, lo metto a posto, non c'è problema. Ok, grazie. Prego. Come puoi vedere questa è la copertina originale di Caccia all'Uomo, disegnata esplicitamente da Abbey, come puoi vedere dalla firma che c'è qui. Qui dietro è riportata la descrizione precisa e assolutamente dettagliata di ciò che la copertina doveva rappresentare di fatto illustrati, per cui vedi un uomo dallo sguardo torvo e accigliato sullo sfondo di un mare blu. Quanto a questo, siamo ormai in un'altra epoca, siamo nel 1966, dunque il fascismo è superato ma le censure che da sempre caratterizzano la società italiana non sono finite. Non sono finite, di fatti questa copertina è stata rifiutata dall'editore perché... L'era scosciata. Esatto. Guardo, veramente collezioni affascinanti. Io vado a riconoscere il fondatore. Se vuoi conoscere il fondatore vai pure di là. Grazie. Prego. Tu sono Adriano Rossellini? Sì, sono io. Eccolo qua, è il nostro fondatore. E' inutile negarlo, il vero colpevole sono io. E' il colpevole di tutto questo? Sì. Ma come le è venuto in mente di fare questa fondazione? Mi è venuto in mente per il grande amore che ho avuto sempre per la letteratura popolare. Qual è la letteratura popolare? La letteratura popolare è quella che si rivolge programmaticamente a tutti. Questa collana com'è che si chiama? Omnibus. Che novità aveva questa collana ai tempi? C'era questo fatto un po' rivoluzionario della copertina avvolgente. Posso vedere questo? Sì, come no. Quello è un esempio classico che è Via col vento. Noto a tutti. La copertina avvolgente dà una specie di visione cinematografica del contenuto dell'opera. Grazie, professore. Vado. Ah, scusi. Se ne ero mica accorta, eh? Buongiorno. 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 Buongiorno Gianfranco. Mario Alò e Claudio Pierpaoli. Allora, prima di tutto, dove siamo? Siamo a Senegale. Allora, siamo a Locale Zona Vissane. Allora, mi sai cosa dovevi dire sto nome? Non lo dovevi dire? Locale Zona. Mario, allora che sta a fare prima di tutto? Le cristagliate. Che sono le cristagliate? È una pasta tipica della zona. Ma tu non sei dei senigai? Eh, ma io imparato. Ma tu sei calabrese? Come fai? Spiegami. Ho imparato. Si miscela la farina bianca con la farina di mais. Ma esse che è? Quella del storo? Otto file? No, otto file. Ah, quello del re. Quello del re. Otto file. Un pizzico di sale, acqua. E acqua di abito. Muovite Mario, muovila lunga. Claudio, tu che stai facendo? Io sto preparando la base per fare la zuppa di fagioli. Che cosa? Zuppa di fagioli, eh? Zuppa di fagioli con cristagliate e salsiccia matta. Ecco. Scusa, stai tritando carota, cipolle e sedola o per fare cosa? Il fondo? Per fare il fondo, sì. Vai, metti tutto il fondo. Su, fammi vedere. Dai. Mettiamo. Niente olio? Sì, mettiamo olio. Uno spicchio di aglio pulito. Uno spicchio di aglio pulito. Allora, olio di salsiccia d'oliva, una foglia di laurea, carota di cipolle e sedola, uno spicchio di aglio pulito. Olio di salsiccia d'oliva. Manca, manca un po' di cipolla tritata. E mettiamo anche un mazzetto di odori. Abbiamo messo i fagioli a bagno il giorno prima e li abbiamo messi a cuocere in acqua fredda per circa due ore. La salsiccia matta, la mettiamo a cuocere a parte o la mettiamo a cucinare dentro? Allora, abbiamo un brodo vegetale e carne di manzo. Bene, e mettiamo dentro la salsiccia. E mettiamo dentro la salsiccia. Vai, vai, vai. Come facciamo questo? Vai, vai, alza un po', alza. Quanto tempo? Tutto a crudo e crudo? Sì, tutto a crudo e in acqua fredda. Come si fa un classico brodo. Un classico brodo. Brodo di carne. Allora, a questo punto mettiamo i fagioli? Ora sì, mettiamo i fagioli che... Con un po' di la sua acqua, senza acqua? Assolutamente, con la sua acqua, un pochino per prendere il sapore. E' morbido, morbido, ma... Mario, guarda veramente. Ora, facciamo andare i fagioli. Mettiamo un po' di pomodoro. Mettiamo un po' di pomodoro con cassè. Sì. Pulito. Sì. Beppe, un po' di sale. Quanto deve bollire? Pochissimo? Ma, diciamo, 20 minuti, una mezz'ora, il tempo che si cuoce il pomodoro, perché in realtà il fagiolo è già cotto. Quindi non dobbiamo... dobbiamo amalgamare anche un po' il sapore, diciamo. E mettiamo un po' di acqua di questo brodo che... Che è praticamente l'essenza della carne di manzo e della salsiccia matta. Sì. Noi adesso prenderemo questa salsiccia matta e la aggiungeremo a questa zuppa di fagioli. Questo ovviamente cuocerà, noi toglieremo l'aglio e il bouquet di odori e lo frulleremo come un impieme. Quindi per realizzare un problema. Eccolo qua. Qualche fagiolo intero ce lo mettiamo o lo facciamo? Assolutamente sì, una volta frullato aggiungiamo dei fagioli interi. La metto sul fuoco. Metti un po' di fagioli interi così... E' già cotto anche la salsiccia matta. Scusa, te la metto qui. Metti giù la pasta, metti giù la pasta Mario. Vai che siamo, addirittura arrivo. Tempi, tempi, tempi. Tempi, tempi, vai. Vai qua, vieni qui. Vai, ecco. Gli diamo un po' di ambientazione alla salsiccia. Una rotonda sul mare. Gli amici? Vengono gli amici. Vai, bravo. Su, via, cambia. Gli ha preparato pure il sotto. Non lo so, bravo. Chi la mangia? Scusa, me. Un po' di olio, un po' di pepe. Un giro d'olio e un po' di pepe, assolutamente sì. Dai, un boccettino d'olio. Perché quei finocchi? Perché secondo me alla fine pasto un finocchio per sgassare, aiutare la digestione, ci sta molto bene. Aiutiamoci. Bisogna volersi bene. Senti, grazie. Grazie veramente. Ciao. È stato un piacere. Mario. Ciao, 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 Mario. Ciao. Ciao, ragazzi. Mi raccomando, eh. Crestajat alla salsiccia matta e zuppa di fagioli. Per la pasta, 250 g di farina 00, 150 g di farina di mais, acqua tiepida, sale. Per il brodo, una salsiccia matta, 400 g di carne di manzo con l'osso, cipolla, carota, sedano. Per la zuppa, 500 g di fagioli, 3 pomodori tritati, finocchi, cipolla, carota, sedano, uno spicchio di aglio intero, una foglia di lauro, un mazzetto di odori, rosmarino e alloro legati con lo spago, olio extravergine di oliva. Preparate i cresta e iate impastando le due farine con acqua tiepida. Stendete la sfoglia e tagliate a rombi. Preparate il brodo con carota, sedano, cipolla, salsiccia matta e la carne di manzo, aggiungendo tutti gli ingredienti a freddo in una casseruola. A parte, tritate cipolla, sedano e carota e fate appassire in pentola con olio, sale, uno spicchio d'aglio, una foglia di lauro e un mazzetto di odori. Aggiungete i fagioli lessati precedentemente dopo essere stati tenuti a bagno per una giornata in acqua fredda. Preparate una dadolata di pomodoro privo di buccia e semi, aggiungete la zuppa. Bagnate con il brodo di salsiccia matta e acqua di cottura dei fagioli. Dopo 20 minuti di cottura, togliete l'aglio e gli odori e frullate fuori dal fuoco. Poi aggiungete qualche fagiolo intero e rimettete la pentola sul fuoco. Affettate la salsiccia matta e aggiungetela alla zuppa. Lessate i cresta iate in acqua salata, scolateli e aggiungeteli alla zuppa. Servite un giro di olio e del pepe e accompagnate il piatto con un'insalata di finocchi a parte. Un piatto matto? Dobbiamo scomberare l'edificio. A Senigallia la domanda sorge spontanea. Chi è l'assassino? Infatti, oltre alla rocca, la salsiccia matta e il mare, qui c'è anche la collezione completa dei gialli italiani. Adesso ci prepariamo per un po' di danze. Un, due, tre, un, due, tre. Da fa come annoio, annoio, mi canto una delle canzoni antiluviane, quelle preistoriche. Una rotonda sul mare, il nostro disco che suona, vedo gli amici ballare, vedo gli amici ballare. Ma tu non sei qui con me. Ma tu sei qui con me. E sono qua con te. Tutta sta storia, scomentiamo preppo gusto per dimmi che mi stai portando a Senigallia per la rotonda sul mare. Tu sei per spicace, per spicace. Per spicace. Per spicace. Tu sei furbetta, perché hai capito tutto che sto portando. Tu sei comito ancora la rotonda sul mare, sia quella di Senigallia. Beh. No, perché Migliacci qualche anno fa ha detto che la rotonda sul mare, in realtà non è sul mare, ma è una rotonda sul lago, sul lago Trasimeno, vicino a Cortona. Una rotonda sul mare. Eccola! Guarda, guarda, macchina di 50, fermati. È bellissimo, guarda. Il nostro disco che suona. Ma che è un film, Gianfranco? E fammi cantare. No, questo è un film. Vedo gli amici ballare. E questo è tutto bene? Come tutto bene? Ma che si fa a mettere di così? Happy Days, Happy Days. Era Happy Days. In queste parti? Ma scusate, mi sembri, come si chiama, forse. Il nostro disco che suona. Ma guarda qua, c'hai un patacca sulla mano. Dai. Sono patacca. Dove andiamo? Dove andiamo? Sei un patacca? Ma si va a fare due prove, due balli alla rotonda, che è un nostro portiere generale. No, prima di tutto, scusa, prima di tutto, specie a questo cancaro che è. Sono due cancaro e due Chevrolet. Questa è del 53, una Bel Air, e questa è un'impala del 59. Ma scusate, fate come i drive-in che fate l'amore in macchina? Quando c'è la possibilità, sì. Benvenuti con l'oppo. Ben trovata. Ciao. Come state? Come ti chiami? Alessandro, piccino. Alessandro, ma qui mi sembra di un revival? Un revival. Sì, di Luciano Taglioli, Freddi Buscaglione. Siamo un po' più oltre c'è, no? Ma come no? Eh beh, ho capito, ma ti posso parlare di F. Bogart, di Rita Ewell, ti posso parlare di... Sì, sì. ...di Francinata, di Fred Astaire, Gigi Roglia. Sanno, tu che cosa organizzi? Io organizzo insieme ad Angelo il Summer Jambore, che è il Festival Internazionale di Musica e Cultura dell'America degli Anni. Cosa è il suo Jambore? Un milione di due termini, jam boy, marmellata di ragazzi. Era il termine indicato per parlare della baldoria che si faceva negli anni 50. Perché avete preso gli anni 40 prima della guerra e gli anni 50 dopo la guerra? Perché nella moda, nel design, nella musica, gli anni 40 e 50 hanno dettato delle regole fondamentali. Rock and roll, che è nato precisamente nel 54, è proprio, diciamo, l'anno in cui si esce un po' dalla guerra e poi un movimento internaziale con Rock and Round the Clock. One, two, three o'clock, four o'clock, rock. Ma che balli fate qua, oltre al Jambore? Diciamo che il Jambore e i balli del rock and roll sono vari, vari, vari generi. A partire dall'Indy Hop, che è nato negli anni 20, nel 1927. Perché si chiama Lindy Hop? Perché è nato nel 1927, in occasione della prima trasvolata di Charles Lindbergh, la prima trasvolata oceanica, ed è stato inventato appunto da Lindbergh, l'Indy Hop. Ed è un ballo nato ad Arlem, a New York, è un ballo nero dove, insomma, si salta molto. Rita Epport! Eh? Sì, capirai. Come capirei? Mamma mia, come siamo incartati! Ci siamo incartati! Ci siamo incartati! Guarda, scusa, guarda, ma non è possibile. Mi va via come un'anguilla! Attenzione, prego! Attenzione, prego! Si è creata una situazione per la quale dobbiamo sgomberare l'edificio. Via! Preghiamo di abbandonare l'edificio immediatamente. Scusa, c'è piaciuto il genere? Sì, sì. Ho uno store che tratta tutte queste cose nei 50. Vieni! Ok! Attenzione! Buongiorno! Buongiorno, benvenuto a Moro d'Alba! Tutto bene? Paolo Lucchetti? Paolo Lucchetti, in persona. Il famoso lacrima di Morro, Morro d'Alba, vero? Esatto, sì, assolutamente. Qui siamo vicino a Iesi? Assolutamente sì. È un vitigno veramente antichissimo. Si parla già per l'appunto di lacrima, per l'appunto in alcuni testi in cui Federico I, Federico Barbarossa, per l'appunto durante l'assedio di Ancona scelse Morro d'Alba come paese strategico per assediare per l'appunto la città. E i paese sani furono tutti costretti a portare tutti i prodotti più buoni, più tipici all'imperatore. Lacrima di Morro d'Alba, perché il nome è questo? Beh, per due motivi. Naturalmente Morro d'Alba perché è il paese in cui questo antico vitigno è stato scoperto e dove viene coltivato. E lacrima perché la buccia è molto sottile. Capita spesso che a piena maturazione l'uva si rompa e fuoriesca questa lacrima. Ascolta, siamo un po' tardivi per la vendemmia, come mai? Siamo un po' tardivi in questo momento perché stiamo selezionando l'uva per destinare all'appassimento, alla produzione di un vino dolce e di un vino molto particolare che è il nostro top di gamma. Non tutti i grappoli sono destinati naturalmente alla produzione del vino per l'appassimento perché non tutta l'uva si presta bene a questa tecnica. Dunque c'è una selezione sul vitigno? Assolutamente sì. Posso scegliere io? Assolutamente. Allora guarda, questo qui... No, questo non va bene. Ma dai perché c'è questo? Eh sì. Ma dai, non sta a fare... Eh, non va bene. Guarda, veramente fa la bianca. L'uva deve essere perfetta. Questa va bene? Sì, questo è perfetto. Che produzioni c'è di questo Lacrima di Morro d'Alba? Allora, di Lacrima di Morro d'Alba ad oggi esistono solamente 250 ettri totali. Ha rischiato addirittura di estinguersi nel tempo perché un vino, un'uva che tende a lacrimare naturalmente non è un'uva da gestire. Perché la buccia fina... Ecco, senti, però una cortesia. Io vorrei sapere. Che uva è? San Giovese? No. È Lacrima. È un uvaggio autoctono, quindi tipico del territorio che si trova solamente qua e solamente in queste colline riesce a esprimere la massima tipicità, la massima espressione. Dunque viene raccolto, viene portato sui tralicci. Quanto tempo deve stare sui tralicci? 120 giorni, 4 mesi. 120 giorni. Dunque viene poi pigiato? Assolutamente, intorno all'Epifania e poi da lì si arrivano quasi a 50 giorni di macerazione. Poi dove viene messo? All'interno delle botti. E poi quanto sta nelle botti? Tre anni. Da 100 kg di uva si riescono a produrre circa 20 litri di vino. E quanto costa una bottiglia sul mercato? Tanto. Beh, Federico Barbarossa ci aveva visto lungo su questa cosa. Assolutamente sì. Perché lo fate degustare col pecorino di Fossa? Perché è un abbinamento fantastico, secondo me. Ma non è neanche dolce? No, assolutamente, è secco. È secco? Paolo Lucchietti, straordinario personaggio e personaggio anche della viticultura italiana. Ciao. Questo è un Roccola, 1948, Chicago, tutto originale. E dove l'hai preso questo? Questo era in un mercatino a Parigi negli anni Ottanta, l'ho preso un collezionista, adesso sto trattando, sto trattando affinché diventi mio. E questo è Elvis Presley, è un po', diciamo, la punta dell'iceberg, è quello che mi ha fatto scoprire un po' questo mondo degli anni 40 e 50. E tu non facevi questo prima? No, non facevo, facevo un'altra vita precedente. Io correvo in bicicletta prima, poi ho iniziato a fare il grafico pubblicitario, un po' più di vent'anni fa, quando non trovando i capi d'abbigliamento che mi piacevano, facevano appunto riferimento a quest'epoca, ho incominciato a produrli. Questo è il flipper, anche questo è un'icona di quegli anni? Sì, sicuramente, sai, in tutti i film di American Graffiti, il flipper è sempre presente, assolutamente. Anch'io voglio fare una partita, non ero malaccio da piccola. Io farei provare, farei provare, sì sì, provare. Grazie. No, scusa, no, no, devo riprovare, no, non è possibile. Al sabato qui facciamo delle sfide, se vuoi venire facciamo delle sfide, una pallina, se fa di meno paga l'aperitivo a te. Se vuoi partecipare. No, no, scusa, no, questa è scuotura. Possibile, va sempre lì nel mezzo, dai, non è colpa mia, non si può scuotere, vero? È colpa mia, è colpa tua. No, non è colpa mia, no, no. Eccola, eh. No, è colpa mia. È colpa tua, sì, sì. Come dicevo, qui il sabato è un punto di ritrovo, cioè ogni tanto viene il barbiere che taglia i capelli. E questo è un vero taglio anni 50? È abbastanza, sì sì. Ha fatto freddo? No, assolutamente. No. Brillantina, wax. C'è alcuni campioni in una vetrina. Ah, eccolo qua, vedi? Questi prodotti sono tutti originali anni 50? Eh, guarda, alcuni sono originali anni 50, alcuni anche italiani. E com'era il taglio anni 50? Ma... Qua era tutto sfumato, poi c'era... Ma sì, c'era la bella sfumatura dietro, poi a seconda del periodo. E poi un'altra cosa che andava di moda allora erano tatuaggi? C'erano, sì, però c'erano i marinai, più di tutto, insomma, i marinai, le prostitute, i galeotti. La gente è per bene. E a proposito dei vestiti, gli anni 50? E lì era tutto un mondo che ogni tanto ritorna, tutto un mondo a parte. Buonasera, buongiorno, come ti chiami? Michele Sabatini. Michele Sabatini. Senti, oggi che piatto prepariamo? Prepariamo il brodetto di pesce alla senigallese, quello originale. Non è a Lanconetana. No, 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 non è a Lanconetana. Qui è vero che ogni 5 km ognuno fa il suo, eh. Benissimo. Però noi abbiamo il nostro alla senigallese. Tanto però parti con il fondo, quello che devi fare, che io ti seguo. Allora, o le stavegge d'oliva, o le stavegge d'oliva. Una teglia. Tu esageri sempre, invece fa una porzione e la fate duvila qui. Il brodetto è il tipico pasto dei pescatori di una volta, è vecchissimo. Io la conosco perché mio nonno era, mio bisnonno, era uno dei pescatori storici di senigallia. Allora, metti olio e stavegge d'oliva, mezza cipolla, uno spicchio di aglio senza la camicia, peperoncino abbondante che ha le moroidi soffre sicuramente, e poi andiamo avanti. Lo facciamo soffriggere, gli diamo un pochettino di prezzemolo da subito, tritato grossolano, perché questa è una ricetta che si faceva nei barchetti, quando i pescatori erano in mare. Quindi non è che la barca stava ferma, bisognava tritarlo velocemente. A questo punto lo dobbiamo bagnare, sfumare con l'aceto, non con il vino, in alcune parti d'Italia si fa con il vino. A me si fa con l'aceto perché era una cosa che nelle barche non mancava mai. Adesso l'aceto asciuga un pochettino e poi gli diamo il pomodoro. Dunque sento sempre l'agro dell'aceto? A fine ricetta, quando il piatto è finito, l'agro dell'aceto un pochettino si sente, ma gli dà quel tono dolciastro più che agro. Bene, vai avanti. Che metti? Un gocino d'acqua. Come mai? Va allungato perché la cottura è piuttosto lunga e l'allunghiamo di modo che il pesce lasci tutti gli umori dentro il brodetto. Andremo a mettere i pesci, quelli che ci vuole più tempo a cuocere, come la seppia. La testa? Anche la testa, sì. Ecco. I calamari. Che sono quelli che hanno più tempo di cottura? Non saliamo il pesce, saliamo solo la salsa. Sogno, orata, palombo, capone, gallinella, razza, tridi, scolfano, cicale, scampi e mazzacolle. E questo? Ragno. Aragno. Pesce ragno. Pesce ragno. Come vedete ho messo tutto separato perché di modo che quando lo andiamo a ripescare insomma li ritroviamo un po' tutti perché altrimenti... Questa è una cosa molto importante. Altrimenti mischiati tutti sarebbe... Va bene. Non lo rigiri mai. Questo non si rigira mai. Mai. Questo il brodetto di pesce alla senigallese è nato che lo gira il mare. E quanto tempo di cottura? Minimo un'ora e mezzo. Abbiamo aspettato quanto tempo per la cottura? Due ore. Noi adesso prendiamo il piatto che Michele lo andremo a impiattare. Eccolo qua. Questo cos'è? Questa è della coda di rospo. Coda di rospo. Vai. Allora. Vai che dà, vai che dà a pe, vai che dà, vai che dà a pe, se non dà a pe, non temi nada no. Il nostro brodetto alla senigallese. 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 Senigallese in Africa, certo. È vero, lo so, lo so. Però io alla senigallese, brodetto alla senigallese è pronto. Un po' di prezzetto molto tritato, poi ci tiriamo da crudo. Lo possiamo mangiare con del pane, pane anche fresco. Con il pane fresco. Grazie Michele, grazie. Abbiamo veramente visto la preparazione di questo brodetto alla senigallese. Senigallese. Brodetto senigallese. Mezza cipolla bianca tagliata sottile. Quattro spicchi di aglio. Mezzo bicchiere di aceto bianco. Cinquecento grammi di pelati. Due pesci ragno. Quattro pannocchie. Una seppia. Due calamari. Quattro scampi. Quattro mazzancolle. Due tranci di palombo. Un filetto di coda di rospo. Tre triglie da scoglio. Un'ala di razza. Tre tranci di scorfano, orata e mazzola. Una sogliola. Olio extravergine di oliva. Prezzemolo. Sale. Peperoncino e pepe. In una teglia bassa e larga soffriggete mezza cipolla tagliata sottile e gli spicchi d'aglio. Aggiungete peperoncino e prezzemolo tritato grossolanamente. Sfumate con aceto e fate evaporare. Aggiungete la passata di pomodoro e due bicchieri di acqua. Salate e lasciate cuocere per qualche minuto. Mettete il pesce in teglia partendo dalla seppia e dai calamari. Aggiungete scampi, ali di razza, mazzancolle, pannocchie, coda di rospo e dopo qualche minuto il resto del pesce. Per ultimo il pesce ragno. Il brodetto non va mai girato ma scosso. Se si asciuga la salsa aggiungete acqua. Cuocete a fuoco vivace per almeno un'ora e mezzo. Impiattate con prezzemolo tritato, olio a crudo e pane fresco. La preparazione è pure lunga ma il piacere sarà infinito. Il tuo desiderio? Questa è la piazza dove è nato il mio mito. Pesce c'era un cappanno qui e lo mostrarono al pubblico. Una? Un cappanno. Le nostre danze sulla rotonda di Senigallia ci hanno portato indietro nel tempo fino agli anni 50. Adesso tra una lacrima d'alba e un brodetto di pesce viaggiamo felici verso Iesi per l'ultimo affondo. Cucu, chi sono? Dai Michela, per contesia, chi ci fa con questa maschera adesso? Carnevale è finito. Andiamo a Iesi, mica andiamo a Venezia. Ma scusa, andiamo a Iesi. Iesi è la patria dello scherma. Ma non stai scherzando, è la più grande scuola di scherma d'Italia. Valentina Vezzali. Vengono tutti fuori da lì, su. Perché non fai sushi e sashimi col fioretto? È vero, sarebbe fantastico. Vabbè, dai, altro che carpacci, sushi e sashimi, io voglio andare dalla Vezzali, anzi, guarda. Guarda che c'ho. Dai, che è? Fioretto o sciapola questo? Questo è fioretto. Ah, fioretto. Dammi l'orologio. No, no, quello è l'orologio. Scusami, posso dirti? O la borsa, o la vita. Stai arrivando a Iesi, dove è nato Federico II. No, Federico II era un papà. Il Federico II è stato il grande, il grande, il più grande, perché aveva studiato con il Papa. Lui prendeva la cultura, la cultura ebraica, la cultura araba. Era un grande. Conosceva benissimo l'arabo lui. Eh sì, ma infatti il Papa dice, vai a fare le guerre. E lui dice, no. Però adesso basta. Basta, ma il grande Federico II. La storia, pure il senatore Mondi. Va bene, andiamo lì, però poi mi porti a tirare di fioretto, dai. Ecco qua, sei contento Gianfranco? Guarda dove ti ho portato. Il tuo desiderio. Questa è la piazza dove è nato il mio mito. Poi c'era un cappanno qui e lo mostrarono al pubblico. Una? Un cappanno. Una tenda. Perché in arabo? Ah, beh, sono... Perché in arabo? In questa piazza il 26 dicembre 1194 è nato Federico II. Ma dai, ascoltami. Ma che sta a dire? Perché tu non sai l'arabo? Michela Gianfranco, benvenuti. Ciao. Salve, salve. Francesco, eh? Francesco Tiberi, sì. Ah, Francesco di Svevia? No, di Iesi. Dunque, la scritta... Perché c'è questa scritta in arabo? La scritta in arabo perché Federico II è stato un simbolo di incontro tra varie culture. La cultura araba, greco-bizzantina, ebraica e svevo-normanni. È stato il grande imperatore d'Europa. Sì, sì. Questo l'abbiamo capito, che ti piace tanto, Basco? Ma il monumento? Il monumento è fuori dalle mura della città all'ingresso di una delle porte urbiche. Questo è il cuore di Iesi? Questo è il cuore di Iesi, questo è il nucleo più antico della città, perché in quest'area insisteva il foro romano. Francesco, io voglio sapere una cosa, no? Costanza d'Altavilla lo portò qui perché lei era avanti con gli anni. Lei aveva già 40 anni, stava scendendo... Beh, per l'epoca era un'età avanzata. Lei stava scendendo verso la Sicilia per raggiungere il marito, che era già re di Sicilia, e si fermò a Iesi, non casualmente, ma perché Iesi era ghibellina, quindi era filo imperiale, ed era circondata da una scinta muraria che la rendeva un posto sicuro. Quindi si fermò volontariamente qui per partorire. Sono emozionato, mi credo. Ancora? Sì, sì, perché io ne parlo sempre. Sì, lo so, perché non ti sdrai, Nazio? Sdraiati su sta piazza e poi magari non ci torni più tutta la vita. No, ma ne so che no. Ma te non ci torni più, ti compiere e sdraiati. Scusa, per me è stato l'uomo che ha salvato il mondo, la cultura, perché aveva studiato con i papi. E non si scherza con i papi. Poi, oltre al nostro amico Federico II di Ostaufen, abbiamo a Iesi un altro personaggio molto importante. Sì, importantissimo per la storia della musica, che è Giovanni Battista Pergolesi. Tu conosci Pergolesi? Sì, era nel nipote mio. Oltre ai personaggi storici abbiamo anche dei personaggi viventi, molto interessanti. Per esempio, vi voglio presentare un personaggio che incarna proprio la Iesinità. Ecco Franco, Franco Burici. Oh, l'attore, Franco Burici. Attore, professore Iesinato. Benvenuti a Iesi, vi abbraccio caramente. Gira la bicicletta, andiamo su, gira la bicicletta. Viva, viva. Devo accompagnare? Che significa essere Iesino? Che significa? Eh, che significa? Io te lo dico, Iesino e San Pietrino. Camminate? Camminiamo. Ma San Pietrino, a Roma? No. Sono nato nel rione di San Pietro, che è dentro la città di Iesi. Quindi sono, per noi Iesini, di una volta, il centro storico era importante. Aveva le strade diroccate, le vie mallastricate. Tutto sembrava, caro Vissani, che si dovesse andare via. Ma chi c'è nato come me nel centro storico? Canuna via sente nostalgia, perché Rione l'ha stregato. Ma che cosa è cambiata da allora oggi? Che è cambiata? Una volta era una città affatata, che come ha visto una regina con tanto dell'acchele, ci ha fatto la culla e ne nacque un re. Per Golesi, per Golesi, ma dov'è questo teatro? Non è una città affatata, che è una città affatata. Ma perché stai là così questa? Perché stai là così? Ma chi ne so perché stai là così? Non c'è la con me? Ma se un po' mi conosci, ha detto zitto. Ma dai, ma che... Ha detto zitto. Ma c'è la con me? Metti poi c'è la sede. E' un po' mi sa. E' un po' mi sa. Ecco ora. C'è un po'. Ma hai sostituito? C'era con me? Sì. Grazie. Bravo! E' pro! Zitto! Che opera stavate facendo? Stiamo provando la serva padrona di Per Golesi. E' un intermezzo che Per Golesi ha scritto nel 1733. E' uno dei pezzi più famosi. E' infatti. L'ho sentito? Zitto! Zitto! Per Golesi so che è morto giovane, 26 anni, tubercolosi. Dunque praticamente è un personaggio che ha lasciato sei opere. Quante opere ha lasciato? Sì, sei opere e questi intermezzi, fra cui appunto la serva padrona. Ma lo stai preparando per questo teatro? In questo teatro si studia Per Golesi, oltre che aver rappresentato l'opera omnia per il trecentenario. Questo teatro è il Tempio di Per Golesi. Mi fai quello stormello, che capisci? Stizzoso mio stizzoso, voi fate il buon rioso, ma no, ma non mi può giocare, ma no, ma non mi può giocare, bisogna il mio divieto, star che tocchetto e non parlare. Zitto! Zitto! Oh, è perfetto per te questo pezzo. Invece Serpina, Michelina vuol per te. Zitto! Adesso te lo farò sempre. Posso dirti? Sì, dimmi. Perché il maestro mi ha girato il foglio e sarà incartato? Buonasera! Buonasera! Come ti chiami? Benvenuto. Gianfranco anch'io. Oh, no, benvenuto ci sto prima io. Senz'altro. Questo famoso lonzino di fico, la storia, a quando risale? Nell'antica Roma si facevano perché non avevano lo zucchero, quindi usavano come dolcificante il miele e la frutta come il fico che era ricca di zuccheri. Ma oggi, no? È diventato un presidio slow food. Sì, in realtà in questa zona ci sono stati alcuni pochissimi produttori che hanno continuato in questi decenni a farlo. Noi l'abbiamo ripreso proprio per inserirlo tra i presidi e di slow food perché ci sembrava un prodotto che veramente valesse la pena. Abbiamo fatto il sottovuoto perché così si mantiene morbido e fresco per circa un anno. Praticamente i fichi che venivano messi a terra, oggi li recuperate tutti? Siamo tornati a impiantare dei fichi. Ah dai! Certo, per produrre l'onzino. È solamente l'onzino o fate anche marmellate oppure fate un'estazione? No, noi facciamo soltanto questo anche perché ormai è conosciuto anche all'estero, ci sono ristoranti a Strasburgo, a Madrid che ce lo chiedono. E quanto costa? Questo attorno ai 6 euro. Lo fate localmente o c'è un'industria? Lo facciamo noi. Questa sapa è un mosto cotto che bolle per 12, 13, 14 ore a seconda degli zuccheri. È un caramello di zuccheri. Questo è buono, questo me lo tengo. Io intanto vorrei andare a vedere veramente come si fa questo rongino. Valentina Vestali. Ciao, come stai? Mamma mia, 19 medaglie d'oro, tre volte campionessa olimpica consecutiva. Allora, la campionessa è lo sport più medagliata della storia di tutti i tempi. Tutto è nato qua, tra l'altro, no? Tutto è nato qua. Quanti anni avevi quando hai iniziato? Sei anni. Era una bambina. E perché iniziavo con lo schermo? Perché qua c'è una grande tradizione, vero? C'è una grandissima tradizione, quindi mi reputo molto fortunata perché accompagnando mia sorella in palestra, lei era cinque anni più grande di me e aveva scelto questo sport, mi sono trovata all'ingresso della palestra, un omino con i baffi, capelli arancioni, pieno di lentiggini, dal portamento regale. Mi portò il modulo di iscrizione e mi iscrisse lui stesso. E questo uomo è stato fondatore di questo grandissimo club, Ezio Piccoli. Qual è stata la medaglia a cui tieni di più? Guarda, fortunatamente di medaglie vinte ce ne sono tante, però ognuna ha un valore più importante. E quella che ricordo con maggior... Eh, forse perché ero una bambina. Per me, all'epoca, il campionato italiano categoria Prima Elam, 1984, avevo 10 anni, rappresentava l'equivalente delle Olimpiadi. e ricordo che non fece a tempo a togliere la maschera quando Piazza Luzi va stoccata che subito mio papà venne lì e mi fece roteare in aria. Secondo me non è uno sport facilissimo, cioè non è come quando vedi... Vuoi provare? Guarda che è facilissimo, eh! Anzitutto la scherma è uno sport che racchiude tre armi. Io faccio fioretto, poi sciabola, che è la specialità per farvi capire che pratica Aldo Montano. Questa è la sciabola. E poi l'arma di Tagliariol, campione olimpico di spada 2008, è questa, che ha, vedi, una coccia. Questa si chiama coccia, diversa dal fioretto. Il fioretto ha una punta sulla cima e praticamente per toccare, per segnare il punto verde o rosso, devi fare una pressione di 500 grammi. E la parte valida del corpo da toccare è la parte vitale, vedi, la parte del giubbetto elettrico laminata, escluse le braccia, escluse le gambe. Prendi questo fioretto, si impugna come si impugna una pistola, è un'impugnatura anatomica questa. È comoda così? No. Eccola! A posto, vedi che ce l'hai fatta? Ecco. Allora, prima di tutto si saluta l'avversario, quindi... Uno, due, brava! Già ci sei, no, troppo larga, un po' più stretta, brava. No, guarda. Ah, così proprio? Ecco, un po' più larghina. Così? Guarda, lo sai che sei bravina? Sì. Brava. Sembra di essere una statuina. Un po' più piegata sulle gambe e adesso ti faccio fare il passo avanti. Cioè, devi venire verso di me. Quindi, oh, brava, brava. Mamma mia, sei in carattere aggressivo. E adesso fammi l'affondo e guardi lo slancio, con questa con la gamba avanti. La gamba dietro, zack. Mercato non valido. Corpita. Ok. Michela, sei portatissima. Guarda, domani mi scrivo. Sono portatissima, sì. Buongiorno. Salve. Come ti chiami? Elisabetta. Elisabetta. Ma dove siamo, qui? A Iesi. All'Italcuc, ovviamente, che è una scuola di gastronomia. Tu quanti anni che fai questo mestiere? Che lavoro qua sono sei anni. Sei anni. Oggi parliamo di? L'onzino e fico. L'onzino e fico. L'onzino e fico è un prodotto di campagna che veniva fatto più per esigenze pratiche, economiche della cucina di campagna perché magari rimanevano le noci, i fichi a fine estate e allora per non buttare le noci perché arrivavano quelle nuove. Questo si produceva a fine estate? Sì, a fine estate. Ma questo qui non è un prodotto natalizio? Il prodotto natalizio diventa natalizio perché poi nel momento in cui rimane nelle dispense viene utilizzato a Natale, ma da novembre a Natale è un mese di tempo per l'utilizzo. Allora, praticamente, noi noci, fichi secchi, mandorle, un po' di anice e questo liquore all'anice, anzi una grappa, un distillato all'anice per essere precisi. Vediamo, vediamo. Allora, si rompono le noci e le mandorle in modo grossolaro. Nel mortaio? Lo facevano nel mortaio, adesso magari si può fare in modo diverso senza problemi, insomma. Nel mortaio che rimanevano tutti gli oli essenziali dentro? Sì. C'è un dosaggio? Ma il dosaggio, praticamente, la frutta secca è circa un 10% della quantità dei fichi. Allora, poi si tritano i fichi. Sì. Ecco, ha il città carne normale, eh? Sì, una volta si faceva con le attrezzature che si usavano per fare i salumi. Allora, poi ci prepariamo ad impastare un pizzico di anice per il profumo. Poi hai messo l'anice, hai messo le mandorle, le noci tostate, i fichi, bacillati, qualche goccia di anice. Di licore all'anice. E questo qui adesso, una volta impastato, lo mettiamo nella foglia di fico? Noi lo tagliamo e lo facciamo al rotolino e poi prepariamo la foglia di fico, togliendogli ovviamente, senza fare niente alla foglia, veniva solo pulita con una spugnetta, per togliere un po' le impurità che potevano essere. Che funzioni ha la foglia in questo caso? Ma intanto dà un po' la struttura e abbellisce, e poi è protettiva. Una volta fatto questo, noi lo arrotoliamo. Prego, prego. A questo punto quanto tempo deve rimanere? Il tempo che si compatti, penso almeno un mesetto. Un mesetto? Ma lo mettiamo nel... In cantina? In cantina? In cantina. Grazie ancora. Prego. Grazie. Così facciamo il bagno e il meglio. Grazie, veramente brava. Grazie ancora. Grazie a lei. Ciao, ciao, grazie. Lonzino di fico. 300 grammi di fichi secchi. 15 grammi di noci, 15 grammi di mandorle, 5 grammi di semi di anice, liquore all'anice, una foglia di fico, un filo di lama. Pestate nel mortaio noci e mandorle. Tritate i fichi secchi fino ad ottenere una purea. Versate su una spianatoia. Unite frutta secca, semi di anice e qualche goccia di liquore. Impastate bene e formate un panetto compatto. Pulite la foglia di vite e tagliatele il picciolo. Arrotolate il panetto nella foglia e legate con un filo di lana. Lasciate riposare per un mese al fresco. Servite lonzino a fette. Facile, buono, chic. Guarda, guarda. Senti che profondo. È lonzino. A sentire il foco. Wow. E dove l'hai preso? Questo qui ne le manco. Ah sì? Buono, io così vuoi, ma lo mangio. No, che te mangi? Io lo mangio lonzino. Ma dai, lo potevamo mangiare tutti insieme. Buono. Ma non è salame. Ma che è salame? È un salame di fighi, dai. Ma tu pensa adesso dove andremo? Dove andremo? E dove andremo? Nord o sud? Eh no. Eh no, è facile per te. Eh no? Nord, sud o sud? Profumo di vino, ma non solo. Vabbè, io mi mangio un figo. Ma dai, su, qua è figo, scusi. Ma voglio? No, perché adesso è troppo presto. No, io voglio una fetta di salame adesso, no. No, fanno un salame buono. Fanno un salame corto, fanno una begnacauda. Ah, andiamo in Piemonte! E poi! Fanno un salame corto, fanno una begnacauda. Fanno un salame corto, fanno una begnacauda. Fanno un salame corto, fanno una begnacauda. Grazie a tutti.